Al via da oggi la settimana europea della mobilità sino a domenica sono in programma oltre 70 appuntamenti organizzati da associazioni, gruppi, istituzioni e aziende per dibattere, promuovere e sperimentare azioni, servizi e interventi di mobilità sostenibile. Gli appuntamenti sono consultabili in dettaglio su romamobilità.it. Venerdì trasporti pubblici a rischio a Roma e nel Lazio a causa di uno sciopero di 24 ore indetto a livello nazionale da alcune sigle sindacali di base. Dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio saranno a rischio le corse di bus, tram, filobus metropolitane e delle ferrovie termini 100 celle, metro mare e Roma Nord. Aggiornamenti su romamobilità.it.